Però non potete mettere in scena se non avete chiaro che cosa succede tra tutti e due. Quello che ho imparato, insegnando, è che ho imparato a imparare. Un artico fatto. Il talento sta nelle scelte che hanno fatto. E mi ha coinvolto al mille per cento. Serve a qualcuno quello che faccio? Grazie a tutti.